Ieri abbiamo visto come la vecchia insinuazione di Satana continua ancora oggi, cioè Satana instilla nel cuore dell'uomo che Dio è un suo avversario, che Dio ci vuole limitati, che Dio, altro che padre, ci vuole sottomessi a lui, ma di una sottomissione come di un capo tribù o di un padrone o uno schiavo. Cioè che Dio non ci fa liberi, che Dio non ci ama, perché chi ti ama ti fa felice, ti rende libero, ti fa crescere e non è geloso della tua crescita. Eppure oggi, ancora oggi, senza accorgercene, molte volte noi siamo schiavi di questa convinzione interiore. E quando proviamo queste cose? Io molte volte ho visto gente nel dolore fisico, spirituale, inveire contro Dio, sentire Dio come un avversario e non come un padre. eppure nel dolore è possibile rinascere. Il dolore non si può capire, non si deve capire. Il dolore non deve impedirti di dire a Dio perché. Perché ce l'hai con me, perché mi hai fatto questo, perché mi hai tolto mio figlio, perché mi hai tolto mia moglie, perché mi hai tolto mio marito, eccetera, eccetera, eccetera. No, tutto questo è umano. Ma poi dobbiamo avere in noi quel senso di umiltà, di umanità che mi porta a dire, Signore, io non capisco, non ti capisco, ma so che sei padre e mi devo fidare di te. Cosa dice un figlio quando è malato, grave, quando vive un momento di difficoltà e i genitori, il papà non può fare nulla, la mamma non può fare assolutamente nulla? Cosa fa? Si prende solo i loro abbracci, sente il calore della loro presenza, parla con loro, inveisce contro di loro, ma alla fine ciò che conta è l'abbraccio di questo padre ed è l'abbraccio di questa madre. Questo per dirci che non dobbiamo mai sentire Dio come lontano da noi, non dobbiamo sentirlo come il nostro avversario e quando ci vengono questi pensieri, queste tentazioni, dobbiamo pensare subito alla prima pagina, a meglio al primo libro della scrittura, libro della Genesi, in cui Satana mette nel cuore di Eva e di Adamo il sospetto che Dio è geloso di loro, che Dio non vuole la loro felicità, che Dio è invidioso e di lì nasce poi il peccato di orgoglio da cui nascono tutti gli altri peccati. Peccato di orgoglio come radice di ogni peccato. Di lì quando poi vogliamo sfidare Dio noi non facciamo altro che rovinare, sfidare e sfigurare la nostra dignità e noi stessi. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!